ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti o bentornati sul mio canale let's talk about dunque dunque oggi mi vedete un po così pensierosa perché adesso vi faccio partecipi nella mia vita ho raccolto almeno un migliaio se non di più di campioni famosi campioncini i sample delle fragranze soprattutto di nicchia facendo il trasloco ho raccimolato tutte le mie scatole le mie buste con questi campioni in un forziere ve lo faccio vedere adesso non deridetemi perché sto pensando se farlo o no questo video però facciamo almeno un video di questo tipo e poi ditemi se vi piace più che un forziere è un bauletto da viaggio della samsonite con una combinazione per tutti coloro che vorrebbero rubare cioè nessuno i miei campioni e all'interno ci saranno almeno un migliaio di campioncini cosa vuol dire questo ho deciso di inaugurare una nuova rubrica però ho paura a farlo che ogni giorno o comunque sì ogni giorno preleverò a caso io ve lo giuro su quello che volete che prenderò i profumi a caso non guardandoli e ne preleverò 5 da questo forziere della samsonite e vi darò le mie impressioni sono tutti i profumi che bene o male compravo cioè compravo compravo magari un profumo in profumeria mi davano 3 4 campioni e io direttamente li mettevo poi nel nelle varie scatole che poi sono diventa e poi è diventato il forziere dei profumi quindi inauguriamo questa rubrica dove pescando 5 profumi conosceremo insieme questi campioncini e vediamo come va magari scopriamo insieme che compriamo altri profumi cioè ovviamente quando sentite i campioni e vi piacciono cosa fate andate a comprarveli ieri comunque vi dicevo che ho pescato 5 fragranze sono stata abbastanza fortunata perché due le conoscevo già ma non ve ne avevo mai parlato quindi adesso cominciamo con i primi 5 sorteggiati del forziere dei campioni allora vi giuro che non li ho guardati cioè ho proprio chiuso gli occhi ho preso i campioni quindi alcuni sono stati proprio una botta di fortuna altri invece un pochettino meno allora il primo che ho preso e pescato è the iris way spero che riuscite a vederlo the iris way di astrophile in stella il secondo è spero che riuscite a vederlo rende noi di bairedo il terzo facile facile joe malone lime basil and mandarin il quarto è love mimosa di amouage ed il quinto che posseggo è di gritti antalaya allora partiamo dal primo che è appunto di iris way io vi metterò sempre qua il l'ologramma del profumo in questione questo è il campioncino the iris way io l'avevo già sentito a torino quando ho comprato yellow mellow sempre della stessa azienda astrophile stella che è un'azienda in realtà italiana ma poi vi devo dire la verità provandolo bene su mouillette non mi aveva dato nessuna emozione è un profumo che mi ricorda tantissimo il mood di bois d'argent di dior il protagonista di ovviamente questo profumo è l'iris e l'ha praticamente lavorato il mitico famosissimo meraviglioso naso italiano luca maffei quindi le la partenza era molto buona anche una buona dosi di mirra ha delle note di vaniglia sul fondo e questa nota ovviamente ambrata ma diciamo che sulla mia sulla mouillette è un conto sulla pelle è tutto un altro come sempre e in questo caso sulla mia pelle l'iris di the iris way non mi ha trasmesso grandi emozioni è un profumo pulito un profumo come può essere nota parfum di juliette zagan come può essere anche magari il lie di gabriella chieffo quindi profumi molto intimi un pochettino ariosi ma molto introspettivi quindi se vi piace l'iris però in una forma molto pulita eterea di iris way sicuramente può essere il vostro ma se state cercando qualcosa di impattante sicuramente al mio parere non lo è il secondo profumo è fantastico qui gioco in casa perché cioè nel senso non è che ce l'avevo ce l'ho in negozio e questo profumo mi fa impazzire ve ne ho già parlato il campione è sempre questo come potete vedere al marchio di amouage ed è il love mimosa allora love mimosa è uno dei miei amouage preferiti amouage è una linea che viene direttamente dal loman è una linea che ha delle materie prime esclusive delle materie prime ricercatissime e strizza un po' l'occhio anche all'occidente ultimamente sono tutti profumi intensissimi ma davvero intensissimi e hanno comunque una bella storia nel loro passato il love mimosa fa parte dei profumi che ricordano gli aromi che vengono sprigionati nei giardini più lussuosi della zona dell'oman questo è un profumo che sa ovviamente di mimosa ma si apre con delle note di di mare di cascalone e poi ha questa nota fruttata di pera dolcissima che fa praticamente sparire quella nota un po' polverosa della mimosa che non a tutti piace alla nota della violetta ha sempre un bellissimo iris e sul fondo ha questa nota di ambroxan quindi si fissa molto sulla pelle ed è un profumo che respira ariosissimo e brillantissimo sicuramente dovete essere appassionati delle note fiorite ma nello stesso tempo anche fruttate è un bel profumo lo consiglio soprattutto però nella primavera il terzo profumo è di gritti antalaia e lui ce l'ho in full size questo è il flacone in full size lui è un profumo secondo me molto maschile ma per il fatto che ricorda questo è un profumo trovato del 2010 ed è come fare una passeggiata in riva al mare per quanto mi riguarda in sardegna antalaia è uno di quei profumi marini molto forti con questa nota estrema di mirto quando io scendo dalla nave per andare poi mi sbarco per andare poi in vacanza in sardegna la prima la prima cosa che noto è il profumo dell'aria è una nota molto forte quella che sento di mirto e ciò che ritrovo esattamente in antalaia sono tutte note tabacco tra l'altro che ricordano estremamente la nota marina ma molto bassamica quindi questo è un bel profumo però lo vedo meglio su un uomo il quarto profumo è di giomalon lime basil and mandarin è un profumo meraviglioso questo l'ho portato per alcuni mesi soprattutto nell'estate ed è iconico per quanto riguarda giomalon infatti ho se vi ricordate preparato proprio qualche tempo fa in un video precedente dei miei prodotti finiti che aveva appunto questo gel scrub lavante per la doccia proprio al lime basil and mandarin è un profumo estremamente energizzante a questa nota vabbè come dice proprio il nome del profumo di lime scorza di lime molto acida che poi va in contraposizione con le note di iris di lilla e ovviamente ha la parte dolcissima agrumata del mandarino sembra più quasi una clementina e la parte energizzante del basilico è uno dei miei profumi preferiti in assoluto di giomalon non ce l'ho in full size in questi qua dietro che vedete non ce l'ho ma adoro tutto ciò che riguarda la la detersione per il corpo la crema corpo di questa linea qua questo è veramente un profumo meraviglioso se vi piace quella nota un po acerba e agrumata nei profumi l'ultimo profumo mi fa sorridere perché l'ho portato tantissimo quando sono andata a lavorare in profumeria nella profumeria di nicchia dove lavoro adesso ormai sono passati quasi due anni e mezzo praticamente mi sono innamorata ero già innamorata di baeredo ma corrende nuì è stato veramente mi ricordo che uscivo con quel cappottone che avevo quell'inverno e avevo messo così tanto rende nuì che era quasi diventato umido perché rende nuì di baeredo questo profumo qua che vedete quanto è scuro è proprio un estratto della linea seven deals di baeredo questo è un profumo che è praticamente utilizzabile da solo dalle regine e dai re che si sentono tali quindi quando io lo mettevo questo profumo è a base ovviamente di rosa un'infinita dose di ribes nero e di incenso sul fondo paciù ha un po il mood se volete di portrait o valedi però lo trovo molto più portabile rende nuì la regina di notte è proprio quello secondo me questo profumo fa diventare regale la persona che lo indossa è un profumo che lascia una scia chilometrica ha una persistenza favolosa ed essendo comunque in estratto è molto molto denso quindi bisogna stare attenta io infatti lo mettevo sul cappotto lungo nero perché non potevo metterlo sui vestiti a meno che sempre da lontano ma è uno dei degli estratti di baeredo che più consiglio quando vengono in negozio chiedermi una rosa speciale una rosa intensa una rosa opulenta perché un po la modernità del ribes nero è un po la storicità della rosa e dell'incenso che fa di questo profumo una una scia di petali neri ecco è una rosa nera molto bene ragazzi e ragazze anche per ragazzi il video è terminato fatemi sapere assolutamente nei commenti se volete che io ricominci a pescare in questo bauletto pieno zeppo di campioni così almeno mi organizzo e domani mattina ne prendo altri cinque e tra due giorni quindi tempo di sperimentarli e ve ne parlo a caso a caso se vi è piaciuto questo video quindi lasciatemi un like iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti o discritte mi raccomando e noi ci vediamo al prossimo video un bacio let's talk about